Direttore Matteassi, il day after della dura sconfitta di Pontedera, si è parlato molto in queste ultime ore di un eventuale esonero di Auteri, la decisione della società è di andare avanti. Ecco, è stata concreta questa ipotesi o è stata solo una, diciamo così, indiscrezione giornalistica il fatto che Auteri potesse essere esonerato? Ma indiscrezione giornalistica, perché di solito quando non arrivano i risultati è normale che paga quasi sempre l'allenatore, però non ci abbiamo pensato perché l'allenatore sta lavorando bene, sta facendo il massimo, è normale che tutti abbiamo delle colpe, della responsabilità quando le cose non vanno bene. Lo ripeto, questo è un anno particolare dove abbiamo cambiato veramente tanto, non sono scusanti queste, non cerco alibi, non cerco scuse, però i fatti dicono questo. Non ci aspettavamo sicuramente di avere questi punti, volevamo essere un po' più in alto e avere qualche punto in più. Vincere la Serie C è veramente difficile, delle volte ti va bene subito, delle volte quando cambi tanto metti delle basi. Purtroppo siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un calo e i risultati sono questi, siamo un po' sotto da quello che volevamo essere. Quindi ci dispiace, chiediamo scusa a tutti, però quello che ci tengo anche a dire è che anche oggi il Presidente ci tiene veramente tanto e vedo che viene anche molte volte preso di mira. Il mister viene preso di mira quando lo vengono risultati, ovviamente io, ma infatti chiedo insomma di lasciare in pace veramente il mister, di farlo lavorare con tranquillità. Il Presidente che ci tiene veramente tanto, che è di Pescara, i giocatori ovviamente devono dar di più, perché devono dar di più, come tutti, perché ci vuole... Io penso che i nostri giocatori ce ne invidiano in tanti, chiunque viene a vedere la nostra partita abbiamo una grande qualità, soltanto ci vuole un atteggiamento diverso, un atteggiamento con più fame, con più cattiveria di portare a casa i tre punti, altrimenti non riusciamo solamente con il bel gioco a ottenere risultati. In Serie C ci vuole quella fame, se c'è da buttare la palla in tribuna si butta la palla in tribuna, quindi chiedo veramente di star vicino a tutte queste persone, dal Presidente al Ministro ai giocatori, perché alla fine se c'è un responsabile è quello che ha fatto la squadra e è il sottoscritto, quindi il sottoscritto. Io mi prendo le mie colpe, però sono convinto che questa squadra con il lavoro ne uscirà fuori. Speriamo e faremo di tutto di arrivare più in alto possibile per cercare di poi di... Perché tanto parlare di primo posto adesso mi sembra quasi raccontare balle e non è giusto raccontare le balle. Ci abbiamo creduto, sperato all'inizio, siamo distaccati, dobbiamo arrivare più in alto possibile per cercare di far benissimo i play-off. Adesso questi ragazzi devono dar tutto per cinque giornate, perché manca cinque giornate a arrivare al Giro di Boa, anzi forse la prima giornata di ritorno è con l'Ancona il 22 dicembre e poi finisce, e poi dopo chi vorrà rimanere rimarrà e chi non dimostrerà in queste cinque partite di essere da Pescara se ne andrà. Ma ripeto, il colpevole è il sottoscritto e vi prego di lasciare stare in pace tutti quanti. Le responsabilità che si attribuisce alla società, che si attribuisce a lei, sono da riscontrare nelle valutazioni fatte in estate in sede di campagna acquisti o anche nella gestione del gruppo poi nel corso di questi mesi. Per come è andato il mercato, vi racconto, vi dico veramente, abbiamo fatto tanti cambiamenti, come ho detto prima, non è semplice, abbiamo cambiato tanto, io rifare le solite scelte. Soltanto che quando non vengono risultati, gli errori sono stati fatti. Sono stati fatti e ripeto, io sono il direttore sportivo, le colpe sono mie, il Mise sta lavorando in maniera eccezionale, è un uomo vero, è un uomo che dice sempre la verità, è un uomo che lavora a 360 gradi, quindi io, la società, il presidente, siamo tutti soddisfatti di lui. Purtroppo quando non vengono risultati è normale che si tiri in ballo sempre l'esonero, però il mister rimane, il mister ha la fiducia di tutti, bisogna cercare di lavorare ancora di più, bisogna unirsi, c'è da mangiare merda, mangiamo merda adesso, però dobbiamo cercare di ottenere quei risultati che ci permetteranno poi di arrivare a playoff carichi con le giuste motivazioni poi per raggiungere qualcosa di importante. Direttore, il mister è noto per essere una sorta di integralista del 3-4-3, qui ha cambiato spesso modulo, non ritiene che questo abbia inciso? Ieri lo stesso Auteri ha detto che la squadra è insicura perché ci sono stati dei cambiamenti, questi cambiamenti sono stati dettati dalla pressione della piazza, queste sono state le parole testuali di Auteri. Perché si è arrivati a questo cambiamento? Come mai Auteri ha scelto di rinnegare un po' il suo credo calcistico? Anche questo è vero, all'inizio abbiamo subito tanti gol, però come vedete le stiamo subendo anche adesso, le analisi sono queste, è la realtà. però le facevamo anche, creavamo molto di più e facevamo più gol. Forse dalle troppe pressioni e altro c'è stato questo cambiamento, però i risultati forse sono stati peggiori di prima, quindi il mister le sta provando di tutte, però questa è stata costruita per il 3-4-3. Si tornerà lì? Ma questo non lo so, però è stata costruita per il 3-4-3 con alcune cose che ci sono riuscite, altre no, perché sapete tutti benissimo che in Serie C c'è una lista, ci sono degli incastri nel mercato che sarebbe troppo lunga da spiegare, insomma, e quindi la rosa è questa, mancano cinque giornate e tutti devono cercare di dimostrare in queste cinque giornate chi ha voglia, chi ha fame di lottare per questa maglia e magari riprendersi tutti questi insulti che ci stiamo prendendo adesso giusti, giusti, dispiace però giusti, e poi insomma facciamo queste cinque partite e poi vedremo, ma ripeto, mi dispiace vedere, lo dico per l'ennesima volta, il mister che lavora tantissimo, ci sta mettendo tutto quello che ha, una persona vera e gli sono vicino, il presidente, anche lui, che prende insulti, che ha di pescare, ci tiene tanto, se c'è un responsabile sono io, mi prendo le mie responsabilità, ieri sera non ho voluto parlare, non perché non volessi parlare per la sconfitta, perché non stavo tanto bene, e alla prima occasione oggi sono qua, sono qua a metterci la faccia, prendermi le mie responsabilità, però io ci credo, ci credo, e sono sicuro che alla fine, adesso dobbiamo mangiare merda, come ho detto prima, però insomma il campionato è lungo e poi ci saranno i play-off, vediamo chi avrà le palle di affrontare questo finale come si deve. L'ultima, le chiedo, c'è stata questa riunione poco fa con il presidente, lei, l'allenatore, i giocatori, chiaramente resta nel segreto delle quattro mura, però cosa è emerso, cosa possiamo dire, cosa è emerso da questa riunione, da questo faccia a faccia? Questo riunione è emerso che l'allenatore non si tocca, è emerso che c'è grandissima qualità in questo gruppo, perché tanti giocatori hanno grandissima qualità, sono giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato di DC, giocatori che l'anno scorso giocavano in serie B, il campionato di DC però ci sono, ripeto, degli incastri, delle cose particolari, o va bene subito, oppure rischi di fare figuracce, devi metterci i coglioni, devi tirare la palla, se c'è da tirare la palla su, non serve solamente il tiki-taka, il tiki-taka lo devono fare altri, bisogna giocare con un atteggiamento diverso, questo serve per vincereci, poi se ci metti questo, e ai giocatori di qualità, i risultati arrivano, però senza quella fame, senza quella voglia di vincere le partite, non è perché ti chiami Pescara, o perché hai giocato in serie B, o perché c'è qualità che le vinci, ci vuole la fame, poi se c'è la qualità è ancora meglio.